E sulla strada che porta a Tokyo parliamo di canottaggio con l'accordo con la federazione quindi abbiamo in collegamento due canottieri, Chieri, Tonto Donati, ciao Chieri, eccola e Davide Mumolo, ciao Davide, ciao, buonasera, però nello scorso fine settimana è andato in scena il 35esimo Memorial Paolo D'Aloia, l'Italremo ha vinto, 97 punti quindi primo posto davanti al Cile e Belgio si è gareggiato a piedi luco, ben nelle trassegno e pesi leggeri, le barche hanno fermato 10 vittorie di cui nuove nelle specialità olimpiche e tanti insomma vostri colleghi che hanno partecipato all'Europeo di Varese si sono ritrovati proprio in questo lago per potersi confrontare ancora una volta un appuntamento fisso, insomma come ogni anno però le date sono un po' diverse proprio per cercare di accorpare il tutto, anche l'Europeo di Varese è arrivato rispetto alle altre stagioni prima proprio per permettere a voi una preparazione migliore, più lunga proprio per Tokyo ancora una volta vicino il Lodo, si confermano appunto nel 2 Senza, bene anche insomma le ragazze e ci sono ancora dei, si va a caccia dei pass olimpici sicuramente nei prossimi eventi allora domando innanzitutto a Davide, voi come poi a Chieri, come siete impegnati in questo periodo cosa state facendo e insomma qual è il vostro programma da qui alle prossime settimane, Davide? Allora in questo periodo vi faccio l'8 e l'8 deve ancora staccare diciamo il passo olimpico e quindi non abbiamo partecipato né al minore al Daloia dovevamo partecipare alla Coppa del Mondo la settimana prossima ma essendoci poche nazioni aderenti non partecipiamo neanche a quella andremo direttamente in qualifica a Lucerna a metà maggio quindi in questo periodo siamo a sabato di separazione Scusa, Lucerna è l'altra Coppa del Mondo? No, Lucerna è la gara di qualifica, l'ultima gara di qualifica Ah ok, è una qualifica a parte Sì, sì, è una gara sì dove parteciperanno solo gli equipaggi che devono qualificare per l'Olimpiade Vai, vai, vai Siamo a Savaudi a prepararci per questo evento molto importante per noi e cerchiamo di riprendere il gap che ci separa dalle nazioni migliori Che sono? Allora, le nazioni con cui dovremmo confrontarci per la qualifica sono principalmente la Romania, la Nuova Zelanda e il Canada Ma sbaglio Davide, o questa imbarcazione che poi anche storica non è mai andata a un'Olimpiade quindi compito anche vostro è quello veramente di poter riuscire in questo tentativo di Lucerna per poter piazzare anche questa imbarcazione? Vabbè, allora l'otto, diciamo che l'Olimpiade a Rio è stato ripescato quindi è andato all'Olimpiade per la squalifica della Russia per il caso doping da quando diciamo hanno cambiato le regole di qualifica riducendo gli equipaggi è diventato molto più difficile di qualificare quindi sicuramente è un impegno importante Cosa? Vabbè, poi questa la faccio dopo, facciamo parlare anche Kieri Anche per te la stessa domanda su quello che è la tua preparazione adesso Tu sei nel 4, vero? Anche noi, sì, io sono in 4 senza Anche noi dobbiamo ancora qualificarci come ragazzi dell'otto quindi nemmeno noi abbiamo gareggiato al Memorial però a differenza loro riusciamo a partecipare alla prima Coppa del Mondo che sarà Zagabria tra una settimana e mezzo e poi lavoriamo verso la qualifica Ecco, le 4 senza insomma l'imbarcazione è anche importante quindi avete comunque delle chance e quali sono le nazioni su cui ecco da cui stare attenti Allora, si devono ancora qualificare l'Irlanda che è all'europeo che abbiamo appena fatto a Varese si è visto che è una barca molto forte Anche la Cina e la Russia sono le parti che sicuramente ci creeranno più problemi Ma è vero, questo poi lo domando a entrambi che magari si arriva all'Olimpiade con delle esclusioni importanti magari si dice che a volte in alcune discipline, in altri sport l'europeo, il mondiale è forse più impegnativo dell'Olimpiade perché i posti sono sempre meno è così anche per voi Davide? Diciamo, l'Olimpiade sicuramente è molto più importante ovviamente e il problema dell'Olimpiade appunto è che bisogna qualificarsi quindi essendo poche le gare di qualifica se in quelle gare succede qualcosa di sbagliato rischi di rimanere fuori sicuramente quello potrebbe essere per un equipaggio che magari potrebbe anche prendere medaglia potrebbe risultare in una mancata partecipazione mentre nel mondiale ci si può iscrivere qualunque nazione può iscriversi e quindi ci permette di competere a chiunque Chiedi per te? Ce l'abbiamo Chiedi? Sì, per me è uguale Ah ok, scusa In senso che l'Olimpiade sicuramente per il nostro sport in particolare è l'evento della carriera Sì Dico però magari a livello diciamo di competitività nel senso ci sono magari tutte le più forti oppure dato che i posti non sono per tutti c'è una scrematura magari può uscire cioè può essere non qualificata un'imbarcazione che magari non so la mondiale ha fatto un secondo posto dico per dire Non ho capito bene la domanda Cioè all'Olimpiade secondo te che deve passare come ha detto Davide tramite una qualificazione vanno quelle più forti oppure ci può essere magari un'imbarcazione che è forte però visto che sono pochi posti rischia di rimanere fuori Quello sicuramente poi dipende molto anche dalla modalità della qualificazione perché tante parti si qualificano al mondiale però non è detto che quelle persone poi ci vanno all'Olimpiadi quindi perché non è una qualifica nominativa quindi può essere dipende un po' Senti e adesso quindi insomma ti stai preparando con le tue colleghe questo quattro senza ecco tu hai fatto anche il due hai fatto il singolo quanto è diverso? Questa è un po' la domanda che faccio un po' a tutti cercando anche delle risposte diverse da voi quanto è diverso? Cioè il carotaggio è quello però stare in barca cioè un singolo, un doppio, un quattro Sono tutte parti molto diverse dal punto di vista tecnico poi sicuramente stare in singolo è un'esperienza molto diversa rispetto alle altre imbarcazioni perché uno sta da solo e quindi quando si gareggia è un'esperienza un po' più più di test che di fisico diciamo mentre nelle barche multiple si ha la fortuna di avere i compagni di barca che nei momenti di crisi ti possono aiutare Davide, tu hai fatto otto, quattro scusa stavi dicendo? No, no, è che è bello cambiare anche avere la possibilità di gareggiare ti dà anche nuovi stimoli, no? Sì, esatto Senti Davide, tu hai fatto quattro hai fatto otto hai fatto anche un un duo Costa Rowing in cui insomma è arrivato anche un primo posto ai mondiali nel 2011 allora spiegaci un po' anche la differenza, che cos'è questo Costa Rowing insomma in un lago non hai le onde o andare in mare insomma quanto cambia e adesso ecco ti sei specializzato un po' su questa barca cioè l'otto parlo Sì, sicuramente in questo momento sono più specializzato nell'otto perché da quando sono entrato in squadra olimpica ho sempre fatto otto però nel passato ho gareggiato in tante diverse barche riguardo il Costa Rowing io faccio sempre un paragone come dire può essere inteso come dire ciclismo su strada o mountain bike è una specialità totalmente diversa che richiede caratteristiche fisiche diverse tattica molto diversa perché comunque il mare e le variabili sono molteplici bisogna essere bravi a sfruttare a sfruttare le correnti a saper prendere le onde a girare bene le boe quindi diciamo che da questo punto di vista forse è una specialità più divertente dove possono succedere molti più colpi di scena anche diverse le barche sono vero? Sì, sì completamente diverse molto più stabili sono barche autosvuotanti anti-affondamento molto più pesanti da portare però si avvicina un po' alla vela? cioè lo scafo della vela? lontanamente io non conosco bene gli scafosi della vela però da visione lontanamente potrebbe quasi quasi assomigliare diciamo sicuramente è uno scafo da mare quindi è uno scafo che deve reggere onde molto molto grandi vi ricordo quando ho fatto Mondiale Costa all'imperù nell'oceano dove c'erano onde alte diversi metri e lo scafo non ha avuto nessun problema a gestirle senti che vuol dire per voi andare torno da Ghia e andare a Tokyo? aspetta perché non ti sentiamo è un sogno ok vai vai mi sentite? sì sì vai ok perfetto per me ovviamente andare a Tokyo è un sogno cioè fare qualunque Olimpiadi è un sogno che è nato quando avevo solo 8 anni quindi diciamo che sarebbe un sogno che si realizza della vita penso che sia un'esperienza unica poter anche solo andare alle Olimpiadi quindi significa molto Davide? come dice anche ieri comunque per qualunque atleta penso che l'Olimpiadi sia il massimo della propria carriera quindi diciamo sarebbe laverarsi di un sogno il risultato di magari un lavoro durato anni perché comunque quando uno comincia meno male il suo obiettivo sarà sempre dal bambino fino al segno l'obiettivo sarà sempre quello comunque di andare in Olimpiadi un giorno o comunque almeno di sognarlo io e tu insomma adesso careggi per la bandiera azzura nazionale appunto italiana ma tu sei australiana dici anche un po' il tuo il tuo nome il tuo cognome ha comunque origini quindi ti chiedo non lo so origini italiane e tu che esperienza hai avuto cioè tu hai iniziato il canottaggio in Australia sì io ho cominciato il canottaggio in Australia quando ero ancora junior però diciamo che ero molto piccola rispetto alle ragazze australiane e quindi fisicamente eri piccola in Italia sì piccola fisicamente ok sì 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 fisicamente e quindi come ti sei appassionata ma a me è sempre piaciuto lo sport in ogni in ogni sua forma e mi era fatto male al ginocchio giocando a basket e ho trovato il canottaggio come un'ottima alternativa che era comunque uno sport di squadra che a me piace però non mi creava dei problemi fisici diciamo il canottaggio in Italia è una tradizione incredibile insomma si pratica in quasi tutte le regioni su più livelli altitudini eccetera quindi insomma è uno sport molto conosciuto anche in Australia invece? in Australia anche abbastanza perché tramite le scuole private e anche le università è molto sentita ci sono tanti forse più lotto e la barca più diffusa nella nostra nella mia paese però sì sicuramente è uno sport anche abbastanza seguita diciamo senti tu sei di Cambero no della capitale praticamente che è stata a metà tra i Sidney e Melbourne pochi chilometri in fronte alla Grittorio Road un paesaggio fantastico unico nel mondo possiamo possiamo dirlo città completamente diverse dalle nostre forse Melbourne è quella un po' più europea come ti sei adattata venendo venendo qui in Italia con la vita magari e anche con lo sport ma non ho avuto grosse difficoltà adattarmi solo un po' forse la burocrazia in Italia mi lascia sempre un po' perplessa pure a noi anche a noi fidati lo so infatti però a parte quello mi sono integrata abbastanza bene e velocemente grazie anche allo sport perché è stata una cosa che mi ha permesso di imparare l'italiano più in fretta e di fare amicizie più velocemente quindi sì poi io vedete no io sto in mezzo sto nel vero senso della parola perché insomma loro sono una coppia quindi Davide è conosciuto Chieri da insomma siete fidanzati a casa parlate anche di canottaggio di gare di allenamenti oppure fate come tante coppie se no lo lasciamo fuori dalla porta ci concentriamo solo su di noi ma visto che diciamo il canottaggio nella nostra vita occupa una gran parte visto che stiamo quasi sempre in raduno quindi il canottaggio occupa la totalità della giornata non c'è non c'è mai stacco quando siamo a casa diciamo che per quanto possibile cerchiamo di concentrarci su altro su altri ambiti della nostra vita e staccare un po' la testa quindi neanche a dire che so mi sono allenato in quella maniera mi sono un consiglio che uno dà all'altro no niente zero beh qualche consiglio sicuramente si dà ovviamente anche perché comunque a casa dobbiamo lo stesso allenarci non è che non ci alleniamo però diciamo fuori dagli allenamenti nel momento in cui possiamo avere diciamo distaccarci da questo mondo per quei pochi giorni o poche ore addirittura cerchiamo per quanto possibile di farlo insomma io da quello che so perché insomma mia moglie non ha a che fare né con il mio lavoro né con lo sport però insomma ha pregi e difetti questo fatto di poter stare di essere fidanzati nello stesso ambito i pregi sono quelli ovviamente di potersi capire dare un incoraggiamento punto di vista non solo ovviamente tecnico ci sono gli allenatori ma morale però ecco come dici giustamente tu Davide la parte negativa è che poi magari ti porti il lavoro a casa e parli sempre 24 ore al giorno sempre di quella cosa in questo caso del canottaggio ecco voi vi siete tanti comunque delle regole quindi sono più i fattori positivi avere vicino una persona che comunque capisce quello che fai perché poi non è facile stare tanti giorni non è che state ore voi state tanti giorni lontano da casa magari non riuscire neanche a vedervi no beh noi praticamente soprattutto quest'anno stiamo almeno 20-25 giorni al mese in raduno non lontano da casa però diciamo il vantaggio di stare assieme appunto è di poter avere una relazione completa diciamo così perché sicuramente nel questo tipo di lavoro diciamo chiamiamo un lavoro sì non permette è molto difficile avere una relazione al di fuori comunque non impossibile è chiaro molto difficile appunto vista la lontananza mentre noi stiamo sempre assieme voi il raduno comunque capitate spesso insieme sì sì il raduno siamo sempre assieme quasi sempre assieme insomma anche la tua insomma è bello poter condividere con Davide delle emozioni delle esperienze capisce quello che fai sì sicuramente sì 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 ma poi anche l'anno scorso che è stato un anno molto particolare per noi durante la quarantena che comunque dovevamo allenarci sempre avere qualcun altro che poteva un po' motivarmi nelle giornate dove stavamo in garage nessuno delle due magari aveva voglia di fare niente è stato sicuramente una grande un grande aiuto quindi questo è sicuramente importante come stimolo e tutto ma voi insomma fate anche una preparazione particolare prima non solo dai vostri colleghi nelle settimane precedenti ho sentito parlare di programma invernale però anche quando state a casa vallenate a secco passatemi il termine cioè senza uscire in barca io noi tendenzialmente sì stando a Genova non abbiamo grande possibilità di uscire in barca perché è molto lontano da dove abitiamo e non abbiamo proprie parti quindi stiamo tanto sul remergometro in palestra ma proprio anche solo perché noi stiamo a casa magari una settimana e quindi quella settimana lì preferiamo renderci la vita più facile andare in palestra piuttosto che andare fino a Pra che ci mettiamo mezzogiornata sì che poi Bra sta in provincia di Torino giusto sta in Piemonte non ho capito scusami dico Bra sta in Piemonte sta quindi magari no Pra Ah Pra scusa sta a Genova ok ho capito Bra con la B di Bologna quindi insomma ecco perché dicevo allora abbiamo detto anche dei prossimi obiettivi insomma è Davide un impegno notevole ovviamente c'è questa chance no di staccare questo pass siete sicuramente concentrati c'è un discorso oggi ti dico a livello tecnico sportivo in cui cioè all in come si suol dire no puntate tutto lì quindi preparazione velocità questo è l'appuntamento clou secondo te cioè la qualificazione questo pass questo appuntamento di Lucerna sicuramente l'appuntamento clou dell'anno per noi è la qualificazione anche perché senza di essa non si va all'Olimpiade dopo va a essere una parte e quindi al massimo che almeno che non facciamo una gara tra di noi a luglio direi che non serve no in senso dopo non c'è nulla c'è questo no non c'è nulla c'è il mondiale è a ottobre ma solo perché appunto a causa del rinvio dell'Olimpiade mondiale l'Olimpiade cadono nel stesso anno però sicuramente l'Olimpiade è l'obiettivo di tutti è quello per cui tutti hanno lavorato questo quadriennio anche alcuni anche il quadriennio prima quindi diciamo che noi buttiamo tutto all-in in questo appuntamento poi mi auguro che andrà bene altrimenti proveremo il quadriennio prossimo vabbè però insomma non ci pensiamo in maniera positiva l'ultima che vi faccio quanto è importante visto che siete su delle imbarcazioni con altri altri atleti poi l'otto ne è composto da te più altri sette quanto è importante l'affiatamento anche non solo la preparazione la testa concentrazione ma capire cosa fa l'altro capire quando l'altro fa quel tipo di abbiamo capito che ormai i colpi sono stabiliti dall'inizio alla fine però quando è il momento di dare il tutto per tutto ecco l'affiatamento quindi domando a entrambi Davide l'otto sicuramente è una barca dove il gruppo è tutto diciamo che otto individualità molto forti messe assieme non potrebbero anche diciamo flopare un po' come potrebbe succedere nel calcio non è detto che un undici fortissimo possa vincere il mondiale diciamo così quindi è importante essere molto affiatati conoscersi avere fiducia l'uno nell'altro perché ognuno di noi praticamente è poco più del 10% della barca quindi si può risolvere poco da soli ma tutto assieme certo chiedi sì per me direi uguale cioè è molto importante anche nell'allenamento già stabilire dei delle sensazioni una sorta di flow che poi si va a portare in gara perché comunque stai tra virgolette nelle mani di altre persone non sei solo tu quindi molto importante sì ragazzi allora un grande bocca al lupo ovviamente per questa qualificazione magari ci risentiremo rivedremo più avanti e parleremo veramente in maniera positiva grazie a chi ritornano nati grazie a Davide Mumolo ciao ragazzi alla prossima ciao buona serata grazie buona serata buona serata a voi bene siamo arrivati al termine di questa puntata di Sporting Club che torna giovedì sempre 20.30 21.30 domani ci come calcio l'approfondimento settimanale dalle 20.30 alle 22 io saluto e ringrazio Emanuele Forcina in cabina di regia per quanto mi riguarda Gianluca Scarlato è tutto ciao 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 Grazie a tutti.